Io diciamo che non posso farlo e non ho nessuna intenzione di provarci, però effettivamente ci sono sport sicuramente dove si acchiappa meno. Tutti i giocatori di biciwale più forti al mondo sono molto poco abbronzati, ti cito Jonas Reggerman che è il campione olimpico uscente, Julius Brink che è il compagno, Alisson, io sono uno dei tanti giocatori di biciwale poco abbronzati. Ma coronare il sogno di tanti anni di sacrifici, soprattutto avere la certezza tanti anni fa di aver fatto la scelta giusta quando ho deciso di abbandonare l'indor, poi c'è stato qualche ritorno di fiamma dovuto a dei periodi di cali di rendimento sulla sabbia dovuti a motivi più diversi l'uno dall'altro, però significa veramente aver fatto la scelta giusta tanti anni fa. Ricordo con grosso piacere il primo torneo del campione italiano che abbiamo vinto qualche anno fa perché noi abbiamo giocato insieme due stagioni e abbiamo fatto Alex, era il primo torneo del campione italiano a cui partecipava e l'ha vinto, non so se c'è stato un caso precedente al suo, che un giocatore all'esordio vince il torneo, aveva me accanto, forse questo non è un caso, però questo dovrebbe dirlo lui. Questo è stato un ricordo sicuramente eccezionale. Poi quest'anno abbiamo fatto a Berlino un torneo davvero strepitoso, partendo dalle qualificazioni abbiamo raggiunto la semifinale che è una cosa che nessuna coppia italiana aveva mai fatto. Tra l'altro siamo la seconda coppia italiana, aver partecipato a una semifinale di un Grand Slam dopo Gruppo e Nicolai, quindi quello è anche un ricordo sicuramente strepitoso. Ho avuto la fortuna di partecipare nel ormai lontano 94 alla prima edizione del Volley Scuola, che è stata un'esperienza fantastica, un ricordo che porto nel cuore e mi ha permesso di avvicinarmi ulteriormente alla palla a volo, che è un mondo che avevo già scoperto ma che non era una parte fondamentale della mia vita, invece grazie al Volley Scuola lo è diventato. Da poco c'è anche il Beach Volley Scuola, che è un'altra manifestazione altrettanto importante e sono sicuro che entrambe le manifestazioni saranno un grosso sistema per trovare degli ottimi nuovi talenti.